E carissimi amici ed amiche, salve a tutti e benvenuti sul canale, come state? Grande successo ieri in tema natalizia, anche il video natalizia, insomma con il battibecco fra Silvia Radina e Sebastiano che ha avuto tanto successo e so che sembra quasi comica la cosa, ma è comica, sono parole dette, cose avvenute, purtroppo è uno scontro fra ideologie, si dice no, era già tutto previsto che dovesse avvenire così, che la storia d'amore eccetera, quindi si fanno interpretazioni anche su quello che sarà la stesura definitiva della dottoressa Cattaneo, dice no, no, qualunque cosa sia, la colpa è di questo oggetto là perché era già tutto previsto quello che doveva succedere dal 18 dicembre, era già tutto previsto, Coccianti ricordate che faceva, come faceva, era già tutto previsto fino al punto che sapevo che oggi tu mi avresti detto quelle cose che mi dici che non siamo più felici che io sono troppo buono che per te ci vuole un uomo che ti sappia soddisfare che non ti basta solo dare ma che potresti anche avere nell'amore, ma quale amore, bellissimo, era già tutto previsto ma siamo sicuri che era già tutto previsto o non era, non era niente previsto, eppure il gossip anche ieri è andato davanti come kamikaze, come quei kamikaze giapponesi della seconda guerra mondiale davanti mi sono segnato alcune cose perché vedete, poi sfugge, sfugge il ricordo nella mente e allora iniziamo da storia italiana perché noi dobbiamo parlare di fatti, di cose dette e cosa dette, allora Eleonora Daniele inizia la trasmissione dicendo mi faccio serio, sono arrivate notizie sconvolgenti che filtrano oddio mio che ci sono ci sono delle lesioni compatibili con l'intervento di terzi cioè questa sarebbe la notizia sconvolgente che un po' tutti sapevamo in effetti e dice ciò apre uno scenario diverso, importante, nuovo bene, allora mi fa piacere se apre uno scenario diverso, nuovo, mi fa piacere perché quindi adesso parliamo di una cosa nuova, nuova, perché è nuovo quindi nello scenario diverso, importante, nuovo, quindi non si parlerà più delle solite cose Sebastiano l'assassino, o presunto tale della moglie per gelosia, eccetera è uno scenario nuovo, o è sempre lo stesso scenario, oppure lo scenario diverso, importante, nuovo è tale e quale a quello di prima c'è uno scenario nuovo, o no? ma non chiedo per me, chiedo sempre per un amico che mi faceva queste domande dice adesso con lo scenario nuovo ci sarà sempre la stessa cosa? eh sì, sempre la stessa cosa interviene anche l'avvocato Cozza che dice, a parte che c'ha un viso per chi sa cogliere tutt'altro che allegro e soddisfatto ecco, secondo me, eh, secondo me e non credo che ci sia una novità nelle deduzioni finali novità che si siano colti altri segni attribuibili a violenza, magari sì compatibile, concepibile ma le deduzioni finali credo che cambieranno poco quindi di è l'onore a Daniele io trovo almeno secondo me fuori luogo cosa? una una sorta di entusiasmo ansiogeno ansiogeno che dice finalmente dopo tanto tempo esce fuori questa cosa dopo tanto tempo non mi rendete conto questa cosa che è uscita fuori ma ma di cosa? io non riesco a capire aiutatemi voi a capire questa cosa cioè che cosa è uscito fuori dopo tanto tempo che non si è suicidato bene lo dicevamo tutti lo dicevano tutti questa cosa qui non vedo cosa che è uscito fuori che probabilmente ha avuto violenza sì lo dicevamo tutti dove risiede la novità? la novità della dottoressa Cattanea dove risiede? dopo questo ah 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 questo entusiasmo ve lo dico io non lo sapete voi? ve lo dico io ve lo dico io sto qua per questo per dirvi le novità allora la novità risiede in realtà che viene di fatto meno la volontà non la volontà cancellate questa la favola dell'amico speciale ed è questa la novità la novità è che viene meno la favola viene meno la storiella d'amore che non esiste e che ha fatto tanto male questa cosa a Liliana perché chi ha fatto del male alla povera Liliana non glielo ha fatto certamente il 14 di dicembre perché il 14 di dicembre il corpo non stava lì e non è stato congelato e non è stato riportato dobbiamo scrivere un'altra storia e questa è la novità questa è la novità è un'altra storia che bisogna sforzarsi di scrivere di andare avanti invece si continua e come andate al bar si continua che ti danno un'acqua scura dicendo che è caffè si continua a bere dell'acqua scura dicendo questo è caffè ma proprio noi di Napoli non riconosciamo il caffè il luogo comune ha alterato anche le percezioni cognitive questa è la novità che emerge queste sono le indiscrezioni questa è la novità che emerge quindi si dimentica che al di là di questa canazza televisiva in generale questa cosa in generale questa bardoria ci sarà un PM un pubblico ministero che valuta la relazione che super giù è nei termini che vi ho detto e valutate tutti gli altri elementi anche deciderà deciderà per l'archiviazione un prosieguo non lo so deciderà ma deciderà il pubblico ministero non noi siamo convinti che questa è la nostra teoria il Papa e il Presidente della Repubblica quindi è inutile oggi dire si dovrebbe fare si dovrebbe dire tutte chiacchiere spinte dal luogo comune che ha condizionato le indagini fin dall'inizio e anche quando sento sento la dottoressa Bruzzone no che dice sicuramente non si può non dire che ci fosse una grande relazione fra fra queste due persone ha perfettamente ragione infatti si equivoca proprio qui su questa cosa qui si equivoca amici miei amiche miei come si fa a dire che non c'è una relazione c'è una grossa profonda relazione anzi superiore a quella che si pensava perché lo stesso Serpin diceva i messaggi ma noi non avevamo bisogno di fare messaggi le cose tette a tre ce le dicevamo a Bush Deviso invece si era dimenticato di sei sette mille messaggi questi così criptati se li era dimenticati era già amore corrisposto se li era dimenticati quindi la grande relazione c'era però secondo me secondo il buonsenso evidentemente non era una relazione di amore perché l'amore è chiaro è limpido è decipro che è corrisposto è chiaro è sincero e quando viene fuori che lo dice pure la dottoressa Bruzzone che legge fra le righe pure lei grazie a Dio dice toglietevi dalla testa che adesso la conclusione sarà morte ammazzate il 14 dicembre il corpo al fresco o sul gelato congelato o al freddo è restituito toglietevelo dalla testa e quando dice non la morte il 14 dicembre nello studio per vado un certo nervosismo oddio santo come si fa ma allora se non è il 14 allora è la storiella ma come ci siamo tanto impegnati a dire come si fa come si fa siamo tanto impegnati a dire per anni no allora l'assassino il marito sapeva lui che l'ha preso a bordo quando è uscito quella mattina chissà e poi l'ha uccisa l'ha portata in frigorifero di qualche amico suo o apicoltore pesci vendolo macelleria e poi dopo 20 giorni l'ha fatta mettere là ma allora se non è il 14 tutto questo cade tutto questo cade ma dopo tanto dopo tanto costruire perché poi quella mattina del 14 i coltelli non li ha consegnati non è vero nell'officina tre ore a fare i coltelli non è vero il giro con la GoPro non è vero è andata a casa le 10 e mezza a spegnere la telefonata e poi è uscita eh tante di quelle cose e poi non serve a niente se ciò non è avvenuto se ciò non è avvenuto niente il 14 di dicembre e allora abbiamo perso del tempo tutti questi esperti hanno perso del tempo allora dobbiamo scrivere al Papa dobbiamo scrivere al Presidente della Repubblica per protestare dobbiamo andare all'Assemblea dell'ONU cosa dobbiamo fare se non siamo d'accordo su quello che ci dice la scienza gli studiosi la procura della Repubblica tanto vituperata tanto criticata cosa dobbiamo fare c'è un ordine superiore a queste a quelli in questa società un ordine superiore alla procura a chi fa le indagini in questo campo vediamo quindi la morte è spostata più in là probabilmente a gennaio è ovvio che bisogna cercarla per altre strade per altre motivazioni per altri soggetti che non siano i soliti noti ovviamente e quindi la storiella non c'è non va bene non c'è non c'entra niente è stata messa così non c'è e questo fa venire i brividi a chi per tre anni gli ha detto le solite cose quindi la fruzione a un certo punto sostanzialmente dice datevi pace perché alla fine una morte che non sia del 14 ma dell'1 2 3 4 5 di gennaio se così è anche per una violenza anche anche per l'omicidio non può essere stato il marito attenzionato giorno per giorno se la morte violenta della Resinovic ripeto se la morte violenta della Resinovic dice Abruzzone è del 1 2 3 4 5 di gennaio non può essere colpevole l'assassino umalamente umalamente Sebastiano ecco è lui il panico totale perché vedete se non può essere quello questo oggetto là allora chi è? chi è se non è quello là? chi è? cosa ci dobbiamo inventare? chi è? ma come? tutti questi studi analitici c'è le telefoniche GoPro tutte queste robe qua al fine 14 14 14 14 14 14 14 14 per incastrare un malamente assassino e ci venite a dire una cosa che non può essere lui panico panico totale totale va bene questo è questo è questo è mi sembra che ci sia stato qualcosa pure a ore 14 sì ecco qua ore 14 a ore 14 devo dire una cosa scusatemi e ore 14 e ore 14 devo dire il mio amico dottor Milo Infante eh Milo Infante ore 14 trae delle conclusioni a mio avviso opposte alla realtà fattuale delle cose perché dice che questi messaggi quindi diciamo il caos messaggi che non ci ripetiamo questo caos messaggi criptati dialettizzati quindi cancella questo caos messaggi dice che sono prova sono prova della storia d'amore e che lei fosse in procinto di cambiare vita quindi è un dato di è un dato di fatto cioè il luogo comune che diventa il dato di fatto e allora non vi lamentate se noi abbiamo dimostrato che non esiste niente e poi la morte viene sforzata più in là come lo facciamo entrare questo i messaggi prova d'amore che ci fosse in procinto di cambiare vita ma che vita bella che sarebbe stata che peccato che peccato che peccato un'analizzazione vedete sostenuta per tre anni da Serpin che aveva ribadito vi ricordo che solo dopo il messaggio del 25 di ottobre 2021 aveva ricambiato l'amore di Liliana quindi aveva cominciato ad amare ecco anche lui e a decidere quindi a dicembre di fare diciamo la fuitina di vivere insieme questo è quello che ci ha raccontato perché ci ha raccontato dell'incontro fortuito di fine agosto 2021 al cimitero che lui non lo vedeva da tanto tempo che le raccontò che era rimasto vedovo prima però aveva detto che era andata Liliana al funerale della mui ma adesso dice che aveva comunicato che era rimasto vedovo poi una tantum a casa a fare i servizi domestici 25 ottobre la reciprocità dell'amore la fuitina a dicembre andava tutto bene tutto bene andava tutto liscio come l'olio l'olio poi se ne vengono questi consulenti che gli hanno fatto un pacotto perché se ne vengono questi consulenti e dicono attenzione fermi là ci sono 6, 700, 800 forse di più messaggi messaggi cosiddette d'amore criptati codificati dialettizzati che però sarebbero già secondo la traduzione data da lui sarebbero già amore pienamente corrisposto ti amo amore amore ti amo ti amo amore ti amo amore pienamente corrisposto almeno dal 2020 quindi tutte queste cose il cimitero 25 ottobre no almeno dal 2020 ampiamente corrisposto ed allora qual è la favola a cui noi dobbiamo credere alcune cose noi ce le dicevamo a voce non c'era bisogno dei messaggi e poi adesso invece no 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 e altro che ce le dicevamo per messaggi qual è la verità e ancora a ore 14 si dice in relazione a quel 13 dicembre il giorno prima si dice ma si c'è stata una telefonata però dopo c'è stato un messaggio in relax pensando a domani am allora allora si dice vedete quindi quella telefonata non era così negativa no innanzitutto questi professionisti questi consulenti questo messaggio qui non l'hanno trovato questo messaggio qui fu fatto vedere da lo sterpin come screenshot sul suo cellulare fu fatto vedere oggi non c'è perché è stato cancellato tutto non si sa perché e comunque e comunque sia anche che fosse in relax pensando a domani a M traduciamo amore mio traduciamo amore mio la risposta poi sotto ancora ancora Liliana che dice son tenace e finirà son tenace e finirà abbiamo visto che pacificamente si riferiva al periodo covid che ancora vigeva in quel periodo son tenace e finirà no doveva finire a storico malamente dice son tenace e finirà un altro poco e poi lo manda a quel paese a questo questo sebastiano che non ne posto più un altro poco fino fino a un mago resisto fino a un mago fino a un mago resisto e poi e poi che bella cosa a casa serpino che devo questo stava pensando questo stava pensando quindi diceva son tenace finirà invece probabilmente si riferiva a questo periodo covid ma però non si parla della sostanza di quella telefonata del sedici di dicembre del tredici scusate tredici dicembre di sedici minuti quello è veramente qualcosa che non era mai venuto fuori per oltre due anni silenzio totale poi quando viene fuori serpino non ne parla non dice contenuto poi incalzato dice per sedici minuti abbiamo detto ti amo amore amore mio ti amo ti amo amore amore mio ti amo ti amo amore amore mio ti amo per sedici minuti poi incalzato ancora per dire ma come si fa per sedici minuti a dire questo se no poi magari si abbiamo detto i progetti i progetti di vita però non va bene questa cosa qui probabilmente dopo Liliana lo blocca lo cancella lo cancella definitivamente e questo è il motivo per cui il giorno dopo quando lui telefona alle 10.56 la telefonata viene deviata in automatico alla segreteria telefonica perché non si è conosciuta in elenco e quindi e questo è anche la telefonata dalle 8.22 riferita in un certo modo poi dice ne parliamo dopo ma è una cosa che è venuta fuori dopo tanto tempo all'inizio non l'aveva detto all'inizio aveva detto quella della telefonata e le 8.22 era durata pochissimi secondi quando viene incalzato a dire no ma guarda è un minuto 36 secondi e dice alla fine diceva vabbè è durato un po' di più perché io l'avevo rimproverata che erano diversi giorni che non si faceva sentire immaginate io l'ho rimproverata perché erano diversi giorni che non si faceva sentire ma che memoria brevissima e il giorno prima il giorno prima aveva ricevuto la più lunga delle telefonate di sempre da parte di Liliana e dice che il giorno dopo l'aveva rimproverata perché non si era fatta sentire da tanti giorni ma come il giorno prima per 16 minuti ma ovviamente si vuole credere all'ingredibile all'indicibile all'impossibile va bene così quindi questo è quindi nell'attesa nell'attesa della della dottoressa Cattaneo questo è quando ormai più o meno le cose si sanno ci sta insomma questo fatto di andare come i kamikaze della seconda guerra mondiale a dire ah finalmente grandi novità eccetera vedrete che le novità sostanzialmente sono che c'è l'emersione di una violenza maggiore effettuata sul corpo che però non sono lesioni di un certo tipo mortale quindi rimane il dubbio ma comunque la cosa principale è che la morte non può essere il 14 dicembre il corpo non è potuto essere congelato raffreddato o altro non c'è nessuna evidenza di questo e quindi non è che si dice ah vabbè questa è la verità scientifica quindi noi ci inchiniamo davanti alla scienza e quindi sarà il PM adesso a trattare la conclusione no adesso si dice come facciamo per incolpare un malamente come facciamo dobbiamo vedere come fa cioè si cerca una volontà una verità da adattare a tutti i costi questa è l'impressione per carità un'impressione del tutto personale però aspettiamo vediamo 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 poi discutiamo secondo quello che esce effettivamente però le cose più o meno stanno così grazie del grande successo e grazie delle grandi condivisioni delle grandi visualizzazioni io più di dire che vi voglio bene cosa devo fare più buon Natale avete fatto l'albero speriamo speriamo che ci sia un po' più di di pace di tranquillità per tutti grazie un abbraccio a tutti quanti voi grazie a tutti grazie a tutti